Ci voleva anche qualche sorso di drink pacco, il reparto che fa acqua da tutte le parti. Beh, qui davanti a me ho dei nuovi bellissimi modelli di Nalgene da 32 once da un litro facciamo. Le Nalgene sono delle borracce fantastiche prodotte negli Stati Uniti, già tutte disponibili su Backpack in diverse forme e colori. Ogni anno circa escono delle nuove colorazioni, delle nuove collezioni. Quindi se non la avete già, se volete fare un regalo, questa è semplicemente la miglior borraccia di plastica al mondo. Resiste agli impatti, quindi se vi cade, vuota o piena, resiste. Ha un sistema di chiusura, un tappo fatto davvero bene. Guardate come gira liberamente, vincolato in modo da non perderlo, però gira senza alcuna difficoltà. E i tappi sono disponibili come ricambi, quindi se vi servono in futuro li trovate già su backpack.it. È una scelta ecologica perché la riutilizzate tutti i giorni, la lavate in lavastoviglie, la ricaricate a casa, bevete tutto il giorno, la ricaricate in ufficio. Due di queste sono due litri d'acqua, fantastico. Tra l'altro il 50% della Nalgina deriva proprio da bottiglie riciclate di plastica. Ben 8 bottiglie di plastica riciclata fanno metà di una Nalgina. È BPA e BPS free, per davvero, certificati. Siete sul backpack, su questo non dovete mai porvi dei problemi. Resiste comunque anche alle bibite calde, quindi potete mettere su anche un te caldo o qualcosa di questo tipo. E la capacità di 32 once è segnata su questa scala, sia in once 32 che in sistema metrico, quindi un litro mille millilitri. Il diametro comunque della Nalgina è di 89 mm, l'altezza di 21 cm e il peso di circa 177 grammi. Questo era un po' per riepilogare, ne trovate diversi modelli, li state vedendo a schermo, ai quali si aggiungono questi della nuova collezione. Ma si aggiunge anche un accessorio che aspettavo da tempo. Uno degli inconvenienti delle bocche larghe delle Nalgina, se vogliamo, è che se beviamo con voracità, rischiamo con la bocca così larga di buttarci l'acqua oltre la bocca e quindi addosso. Se l'estate non è un grosso problema, d'inverno stare con la maglia bagnata in ufficio per un po' dà anche fastidio. E quindi con questo piccolo, semplicissimo accessorio, ovviamente sempre di Nalgina, io vado a bloccare l'erogazione del liquido solo in questa zona. Si chiama di fatto Easy Sipper ed è sempre di Nalgina, è un accessorio che trovate in diverse colorazioni, le state vedendo tutti a schermo, compatibile con tutte le boracce di Nalgina di questo tipo. Va tutto in lavastoviglie e il mattino dopo aver caricato la bottiglia la sistemo così. In ambito escursionistico vi consiglio sempre di mettere uno di questi. Primo perché vi fa bere un po' più moderatamente e l'acqua dobbiamo conservarla. Secondo perché dovesse pure cappottarsi un po' la borraccia con la bocca larga, non perdiamo immediatamente tutto il carico. E in ambito trekking e escursioni questo fa la differenza. Bene, questa era la novità drink pacco di cui volevo parlarvi. Date un'occhiata a tutta la collezione di Nalgina, se state pianificando delle escursioni e non sapete bene come organizzare il trasporto dell'acqua, beh c'è una puntata del Backpackcast anche per quello. Tutti argomenti importantissimi per chi fa trekking, tutti argomenti che tornano utili in tante occasioni anche all'infuori del trekking. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima anche sugli altri social. A presto!